Alvia nella bella Rocca di Saravalle Pistoiese la 18esima edizione di CGL Incontri che quest'anno si svolge guardando l'appuntamento con l'Expo di Milano e realizzando una collaborazione con Slow Food, i cui massimi rappresentanti parteciperanno agli incontri clou della manifestazione che proseguirà fino a domenica 20 luglio, per una partnership che coinvolge anche la cucina allestita alla Rocca di Saravalle con il ristorante che ogni sera, a fianco di menù collaudati, propone su prenotazione piatti realizzati da chef selezionati da Slow Food Toscana. Ci sono cuochi come per esempio Daniele Fagiolini dell'antico ristoro Le Colombaia di Saminiato e Silvia Volpe del ristorante Il Bacco e la Volpe di Castelnuovo Misericordia che sono ristoratori che fanno nel proprio territorio un lavoro importante di collegamento fra quelle che sono le piccole produzioni locali e le loro proposte di cibi e di piatti legati alla tradizione e di qualità. Abbiamo la presenza della montagna pistoiese come segno di un nostro progetto importante che si chiama L'Appennino che verrà e che è un progetto che prevede un lavoro in tutto l'arco appenninico perché le piccole economie di territorio risultino in qualche modo forza e propulsione perché non venga ulteriormente abbandonato e depauferato il nostro territorio. Abbiamo un cuoco campano che rappresenta l'impegno di Slow Food per la legalità e contro lo spreco alimentare che proporrà dei piatti legati fortemente alla tradizione campana e addirittura ci sarà anche la proposta di un dolce esperimento fatto con la mozzarella di bufala che in questi ultimi tempi è stato oggetto di attenzione e non positiva. Poi abbiamo i cuochi del grossetano che porteranno anche loro i piatti del loro territorio con la particolarità di contaminazione fra quella che è la tradizione e quella che è l'innovazione. Poi abbiamo dei cuochi che rappresenteranno l'utilizzo delle parti povere della carne che è una tradizione che si sta perdendo e quindi avremo Salvatore Soscano e Leonardo Torrini che proporranno il quinto quarto e tutte le declinazioni dell'utilizzo della carne in una forma tradizionale ma anche innovativa. Nella bellissima Rocca tornano gli appuntamenti di Cigelli Incontri per il vostro territorio. Questa rassegna cosa rappresenta? Per noi ha rappresentato intanto un veicolo pubblicitario importante a livello nazionale e quindi noi abbiamo sempre sostenuto questa iniziativa. Poi rappresenta anche un momento di grande interesse politico e economico e di grandi confronti che nel tempo si sono succeduti e anche quest'anno mi sembra che gli appuntamenti che sono previsti sono di grandissimo interesse. Il titolo della diciottesima edizione di Cigelli Incontri è Terra e lavoro per una rassegna che tratterà molti temi a questi collegati. Dal salvare l'ecosistema al puntare sul patrimonio terra come patrimonio fondamentale da cui si possono trarre prodotti per far fronte a una delle grandi questioni dei nostri tempi del problema dell'alimentazione nel mondo e l'agricoltura anche come volano e come strumento per il rilancio economico ma anche per il rilancio occupazionale. Infatti ci sarà uno dei momenti specifici proprio su agricoltura e lavoro giovanile. e nell'agricoltura in particolare ci sono ancora forme di sfruttamento davvero accettuato con le forme di capolarato quindi l'infiltrazione delle organizzazioni malavitose tant'è vero che uno degli incontri che si tranno qui a Serravalle prevede la presenza anche di Don Ciotti perché legalità, agricoltura e lavoro sono tre elementi fortemente connessi l'uno all'altro.